Che succede? Allora, come vengono a cena due ragazzi bellissimi stasera? È che non sappiamo che cosa fare. A cena? Perché no? Penne, pancette e filadelfia. Facile e veloce. Rosolate la pancetta. Aggiungiamo filadelfia. E un po' d'acqua di cottura. Renderà tutto cremoso e delicato. Infine, unite la pasta. Irresistibile. Magari se ti spalmi di filadelfia diventi irresistibile anche tu. Ci provo. Prova anche i nuovi gusti al prosciutto e al tonno. Grazie.